L'orientale della città di Salerno? E' la prima diciamo, diciamo che è la prima, cercheremo di fare meglio in futuro. Questa è la prima, la più importante, è quella storica, è quella che ha dato un senso anche all'impegno del Teatro Arbostella, del gruppo di Ginesposito, di un gruppo di amici che davvero hanno lavorato anche per il territorio, oltre che per lo spettacolo in sé, perché poi fare spettacolo significa fare cultura e significa arricchire comunque il territorio. Noi ci siamo riusciti come amministrazione comunale dando una mano, loro sono stati fenomenali, tra l'altro hanno enricchito il contenitore quest'anno con una serie di spettacoli a 360 gradi che vanno dalla danza, con Antonella Rotondo, con Francesco Granozzi che è storicamente un artista importante. Ci sarà la presenza del sindaco De Luca, ci saranno i ragazzi di musica attiva che da qualche tempo stazionano qui, hanno la sede nel teatro e che daranno un contributo nuovo. Sicuramente si è cresciuti moltissimo, possiamo fare di più, ovviamente compatibilmente con quelle che sono le risorse che abbiamo a disposizione, che sono davvero poche. Ima prima presentato alla manifestazione parlava dell'aiuto degli amici, ma è necessario fare così, è necessario veramente rimboccarsi le maniche, fare tutti un'economia in house, oserei dire, ed andare avanti. Oggi questo è il messaggio che deve passare, impegno totale per avere un risultato importante sul territorio. Speriamo che ci sia una grande partecipazione, io ne sono certo, perché è una manifestazione di riferimento di tutta la zona orientale della città e non solo. E poi perché sostanzialmente va a chiudere quello che è un percorso di tutta la città, che va dalla chiesa, dall'acchiostro di Salerno Solidale, della Madonna delle Grazie, ed arriva fino a qui all'Arbostella, dove i cittadini sanitariani ogni sera hanno avuto un punto di riferimento o quantomeno un'opportunità. Noi continuiamo così, speriamo che vada sempre meglio. Grazie.